fucilide di mileto fucilide sesto secolo avanti cristo poeta elegiaco greco in un frammento dice delibera di notte la mente nell'uomo è più sveglia di notte e il silenzio è buon consigliere di saggezza commento chi delibera di notte non è la mente se non è capace di deliberare di giorno ma la coscienza che di notte spesso sostituisce la mente